Ti sposi e tutti ti dicono, scegliendoci il divertimento è assicurato e tutti i tuoi invitati si ritroveranno in pista. Sì, certo, ma come farlo? Come riuscirci? Attraverso il nostro metodo AICH e le nostre 5 soluzioni, il risultato è garantito al 101%. Nulla è frutto del caso, ma da una pianificazione ben precisa nel saper far leva su determinate situazioni ed emozioni. Ciao, sono Mirko della AICH Animazione, clicca sul link sotto di me ed immediatamente e gratuitamente avrai l'accesso diretto ad un contenuto di enorme valore. Ah, ovviamente iscriviti al canale e ci vediamo dall'altra parte. Ciao!